Droga, sigarette e ristorsioni, operazione congiunta della polizia e della guardia di finanza, contrabbando di bionde, traffico di cocaina ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, sono i reati contestati a 12 persone nell'ambito di un'operazione della distrettuale di Napoli, con altrettante misure cautelari eseguite dalla Mobile di Napoli e dalla guardia di finanza di Avellino. Le indagini supportate da attività tecniche sono scaturite da una serie di estorsioni tentate e consumate anche ai danni di due contrabbandieri. Tali condotte sono state intraprese dagli indagati allo scopo di recuperare la somma di 130.000 euro corrispondente al valore di un carico di tabacchi lavorati e esteri affidato alle vittime e da loro perduto perché successivamente sequestrato l'8 ottobre del 2020, scoperto anche un traffico di cocaina sempre aggravato dal metodo mafioso. I carabinieri forestali di Caserta hanno sottoposto in località Castagneto, nel comune di Castello Morrone, in tratto di strada in corso di realizzazione, ma abusiva, sradicando alberi in un'area protetta da vincolo paesaggistico. La realizzazione della porzione di strada in questione, della lunghezza di circa 30 metri, 3 metri circa di larghezza, ha richiesto anche l'esecuzione di lavori di sbancamento con un'altezza massima di 2,10 metri nella sezione dello scavo. Sono stati deferiti in stato di libertà in concorso tra di loro e tra i comproprietari dei fondi interessati degli iscritti interventi abusivi per la violazione urbanistica, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali. Vallo della Lucania, provincia di Salerno, per azione dei carabinieri per associazione e delinquere finalizzata a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, i carabinieri della compagnia di Vallo hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale di Dià nei confronti di tre uomini e una donna, indagati per associazione al delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina italiana dei cittadini moldave impiegate come badanti e per uno degli indagati per il reato di estorsione commessa nei confronti di una delle vittime.